Alberto, fai un passaggio un po' lungo così ti registro e poi ti faccio sentire come arrivi. Sì, Roger e Roberto, anch'io ho un ronzone, un rumore un po' sottofondo, però diciamo te arrivi molto più forte del rumore. Te superi il 9, direi, sì, comunque ti ascolto abbastanza bene. Whiskey 5 c'è l'India, chilo zero lì per Radio Golf. Io registro con l'iPhone.